E da madrina e da padrino a questo modello, a questo abbraccio, ci sarà Serena Lotito con Tony che cantano un pezzo meraviglioso, anche perché è scritto proprio da Serena. Grazie mille, buonasera a tutti. È un piacere poter presentare questa canzone che nasce proprio pensando alla donna. Tutti questi lavori sono realizzati da donne, quindi è veramente un piacere poter presentare questo brano. In occasione della giornata contro la violenza sulle donne abbiamo messo in musica un omaggio al mondo femminile. In realtà il nostro vuole essere un richiamo alla parità tra i sessi, al rispetto e alla valorizzazione. E facciamo questo utilizzando la musica e in questo contesto proponiamo questo lavoro collegandolo al tema abbracci. Perché? Perché la donna non è solo dispensatrice di abbracci, ma è soprattutto degna di riceverne. E quindi il mio invito è ad abbracciare tutte queste donne, quindi lasciare loro spazio, perché l'essenza di una donna non può che arricchirci. C'è un senso in lei Che muove e cambia tutto il resto intorno Donna e poi Eroica come nessun altro al mondo Ciò che un uomo non è Una donna lo ha in sé Nate per Sbocciare di colori come fiori Vissute per Diventare donne di valori Siamo terre da curare Siamo piaggi da inventare Siamo fuori da esplorare Siamo tutto In mezzo al niente Lasciaci raccontare L'infinita voglia di vivere Resta a guardare Fermati ad ascoltare Dai spazio E smetti Di giudicare Non si cresce Con la violenza La libertà E nella parità Nella parità Lasciaci raccontare L'infinita voglia di vivere L'infinita voglia di vivere L'infinita voglia di vivere Resta a guardare Fermati ad ascoltare Dai spazio E smetti Di giudicare Non si cresce Con la violenza L'infinita voglia di vivere La libertà E nella parità Nella parità Nella parità Grazie 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 È una botta in pettuccia lavorata all'uncinetto a punto basso e punto alluminato con manici in plastica dura e bottoni artistici e fondo in finta pelle lucida e questo modello ha sicuramente un sapore particolare perché è un abbraccio anche da qualche tempo qui a Potenza Città Sociale un abbraccio di mamma, auguri Maria Lucia Grazie